buongiorno a tutte ragazze e ragazzi e eccomi tornata con voi con un nuovo video allora parto subito mostrandovi il sono sempre nella mia cucina mostrandovi il poi ve lo farò vedere nel dettaglio le lucine di sheen che avevo acquistato e messi in un recipiente di plastica un contenitore di cioccolati volevo mostrarvi il mio nuovo regalo in anticipo di due mesi allora siccome dieci giorni fa sono stata a milano e ho fatto un po di acquisti siccome mi trovavo in galleria emanuele vittorio galleria vittorio manuele piazza duomo a milano con i miei genitori hanno deciso di regalarmi questa siccome io le prossime ferie le avrò poi a gennaio e non potrò comunque risalire prima prima di natale quindi niente ho scelto di farmi regalare questa anche perché la voglio da tantissimo e quindi diciamo che da sola non potevo permettermela quindi è un regalo dei miei genitori allora niente volevo volevo farvi vedere appunto che ho scelto questa borsa perché mi piacciono tantissimo le borse a mano questa è la modello pm si chiama la louis vuitton montaigne poi vi metto qua il suo suo nome e niente ecco questo è il suo praticamente il bigliettino che ti danno loro del bigliettino d'acquisto vedete in mente quindi questo lo tengo qua praticamente la borsa si presenta così è una grandezza diciamo medio grande ecco c'era anche più piccola però più piccolina si è vero che costava meno però diciamo che non ci metti dentro nulla fondamentalmente quindi ho deciso per quella media c'è anche la db che è quella proprio maxi quindi quella più grande ma onestamente mi sembrava una sorta di valigia quindi niente poi loro cosa ha fatto mi hanno regalato anche la loro rivista quando fanno così ti danno il benvenuto e ti regalano praticamente la collezione di loro questa era quella che avevamo mandato anni fa infatti questa qui è un po usata rilezza e niente quindi niente così allora viene la mostra all'interno allora praticamente all'interno si presenta così con la sua stoffa e le sue cuciture fatte veramente molto molto bene a me piace tantissimo il marchio di louis vuitton e qui c'è appunto la sua targhettina con sempre in oro che adesso non mette a fuoco solo una mano poi qui c'è praticamente la cernierina con il suo lucchettino che io ho attaccato qui alla cerniera e niente poi qui all'interno c'è la come si chiama la tracolla che potete benissimo poi attaccare quando siete stanchi ecco magari lavora portate in spalla poi a me piace tanto comunque sia il monogramma quindi il monogramma perché l'ho scelto perché diciamo che dal solito monogramma marrone ecco il suo colore originale di sempre non mi sono anche un po stancato quindi siccome amo il nero e loro ho deciso praticamente di prenderla così e quindi niente direi che ho fatto veramente molto bene la borsa è così e niente ragazzi sono veramente veramente contenta poi allora il video per questo video è tutto volevo appunto ricordarvi sempre la mia pagina instagram e la mia pagina youtube se avete domande scrivete sotto nell'info box e niente vi lascio e mi raccomando sostenete sempre con un bel like e attivate la campanellina dei messaggi ok ciao a tutti ciao